Buonasera, i timori sono ormai certezza, non c'è nessun superstite purtroppo nella sciagura del DC-10 francese precipitato ieri nel Niger. L'annuncio è stato dato stasera dal comandante delle forze francesi nel Chad, si allunga così di altre 171 vittime nella lista di questo settembre nero per l'aviazione civile. I soccorritori che hanno raggiunto solo in giornata il deserto del Tenerè dove l'aereo si è schiantato si sono trovati davanti a corpi e rottami sparsi per chilometri, tutto fa pensare ad un'esplosione a bordo. Una commissione di inchiesta internazionale dovrà verificare il sospetto più inquietante, cioè che si sia trattato di un attentato. L'esplosione in volo dell'aereo in servizio ad Anjamena a Parigi per conto della compagnia privata francese UTA sarebbe stata di eccezionale violenza. Un attentato forse anche se alla rivendicazione avanzata a nome della Jihad islamica non si dà molto credito. Da un punto di vista puramente tecnico gli esperti affermano che questo incidente è senza spiegazioni. Ipotesi, solo ipotesi, le compressione esplosiva, cedimento della struttura e poi un'altra domanda inquietante. Cosa ha impedito all'equipaggio di lanciare il minimo allarme? Per tutta la notte all'aeroporto di Parigi accanto alla sigla del volo UT772 è rimasta la parola ritardo mentre un addetto della compagnia, la UTA, dava notizie e tentava spiegazioni impossibili. I soccorsi sono resi particolarmente difficili dalla zona stessa in cui l'aereo è precipitato. Si tratta del cuore dell'Africa, si lavora con gli elicotteri in un raggio di un centinaio di chilometri. Questa è infatti la superficie sulla quale giacciono i corpi ed i rottami del DC-10. Il recupero della consueta scatola nera consentirà forse di capire qualcosa, dirà se si tratta veramente di un attentato oppure se aeroplani, compagnie, strutture, tutto ciò che ruota attorno a questo mondo. L'ha messo sotto accusa e con la massima severità. La politica internazionale, Mikhail Gorbachev, ha vinto ancora. Con un nuovo colpo di mano del leader sovietico, la riunione plenaria del Comitato Centrale Comunista si è conclusa stasera a Mosca con la destituzione di cinque fra i massimi dirigenti del vertice del partito. Fra loro esce di scena il potente Vladimir Shcherbysky, l'ultimo dei brezneviani, segretario del partito ucraino, e poi Viktor Chebrikov, fino ad un anno fa capo del KGB. A loro posto otto nuovi membri destinati a rafforzare la linea riformista del Cremlino. Cinque vittime eccellenti per il socialismo riformato, tutti appartenenti alla vecchia guardia. Con queste clamorose stromissioni, il gruppo riformista legato a Gorbachev segna dunque un altro punto a suo favore. E di applausi a scena aperta, il segretario generale del partito in questi due giorni al plenum ne aveva collezionati parecchi. Quando, in apertura dei lavori, aveva detto no alle rivendicazioni separatiste delle repubbliche, riaffermando invece il centralismo democratico e l'unità del partito. Ma nell'intervento con cui Gorbachev ha concluso la riunione del comitato centrale, ci sono anche parecchi sì. Sia all'autonomia economica delle repubbliche e sia al diritto di ognuno di loro a rendere ufficiale la propria lingua nazionale, anche se il russo rimarrà lingua dell'unione. Moderato, cautamente innovatore, il leader sovietico è uscito ancora una volta vincitore dalle molte insidie di questo plenum. Ma per dare nuova spinta alla sua perestroica, il leader sovietico ha bisogno di un comitato centrale più aderente alla politica delle riforme. Il nuovo campo di battaglia su cui si misureranno oppositori e fautori del nuovo corso sarà la campagna elettorale per i delegati al 28esimo congresso del partito che si terrà con un anticipo di 5 mesi nell'ottobre dell'anno prossimo. Intanto il ministro degli esteri sovietico Shevardnadze è in volo verso gli Stati Uniti. Nel Wyoming incontrerà il presidente americano Bush e il segretario di Stato Baker. Al capo della Casa Bianca Shevardnadze consegnerà un messaggio di Gorbachev definito molto importante, contenente proposte concrete per la riduzione delle armi nucleari strategiche. Intanto la Mosca, il portavoce sovietico Grasimov, ha espresso soddisfazione per la disponibilità americana a trattare anche per i missili mobili a lunga gettata. Ultimi preparativi in Cambogia dove tra poche ore comincerà il ritiro delle truppe vietnamite. L'esodo riguarda 50.000 soldati ovvero l'ultimo scaglione del contingente che nel 78 invase il paese per porre fine al genocidio perpetrato dai Khmer rossi di Pol Pot. Il ritiro delle truppe vietnamite si svolgerà senza alcuna supervisione internazionale a causa del fallito accordo tra le fazioni in lotta per il futuro assetto del paese. Ora una breve pausa e poi le altre notizie di stasera. Maserati, la storia. Maserati, l'assoluta stabilità in curva. Il perfetto equilibrio delle masse. Maserati, la potenza in progressione nell'assoluta sicurezza. Maserati, il traguardo. Non parlatemi di soldi, per me è un periodo nero. Ho chiesto in giro per un prestito ma ragazzi, che sventola di interessi. Beh, per fortuna che c'è la IFIP. Con noi operai la IFIP ci va piano con gli interessi. E il prestito lo paghi con piccole trattenute sullo stipendio. E poi te lo danno subito. Allora posso avere... Biglietti? Sì, biglietti, bigliettoni. Con tanti. Milioni. Milioni. IFIP a Milano in via Vitruvio, a Roma in via Flaminia, a Genova in via Ippolito d'Aste, a Firenze in via Puccinotti. Le notizie dall'Italia. Si va rapidamente normalizzando la situazione ai valichi italo-austriaci dopo lo sblocco dell'avvertenza dei camionisti. I primi tir sono ripartiti all'alba di stamane dopo la decisione delle associazioni di categoria di far rientrare la protesta durata otto giorni. Sono ormai quasi concluse anche le operazioni di rimozione degli automezzi lasciate incustoditi dai camionisti rientrare a casa in attesa della soluzione dell'avvertenza. Lo sblocco è stato possibile grazie ai 4.000 permessi di transito per l'Austria ottenuti dal ministro dei trasporti italiano Bernini e alla promessa di rinegoziare l'accordo con l'Austria. La politica italiana. L'ex sindaco di Roma Pietro Giubilo ha rinunciato a presentarsi nelle liste DC per le elezioni comunali del prossimo ottobre. Giubilo lo ha reso noto oggi in una lettera al segretario DC Forlani. L'ex sindaco, la cui giunta è stata travolta dagli scandali, dice di volersi mettere da parte per non creare i problemi al suo partito e tuttavia definisce ingiuste le accuse contro di lui. Capolista della DC a Roma sarà un esterno della politica e il rettore dell'università di Tor Vergata Enrico Garaci. Si è conclusa in serata dopo oltre 4 ore di confronto la riunione tra governo e sindacati sulla manovra economica. Per solo un inizio, anche se non negativo, hanno commentato al termine i rappresentanti di CGL Cisle Will. Sanità, fisco e mezzogiorno sono i tre grandi problemi da approfondire. Già domani si riaprirà il tavolo della trattativa sulla sanità. Il governo intanto ha fatto sapere che non sono da prevedere aumenti di prezzo per la benzina, mentre ci saranno rincari delle tariffe elettriche. Per domani è fissato anche il vertice dei cinque partiti di maggioranza sulla manovra economica. Lo scandalo BNL-Iraq, il ministro del Tesoro italiano Carli, ha risposto oggi alla Camera dei Deputati alle interrogazioni di tutti i partiti. Soddisfazione e apprezzamento dalla maggioranza. Le opposizioni di sinistra hanno invece denunciato il silenzio del governo sulle entità finanziarie e sulle ditte coinvolte nel cosiddettolo Iraq Gate. Il comunista Novelli ha anche fatto alcuni nomi delle società implicate nello scandalo della filiale di Atlanta, della Banca Nazionale del Lavoro. A giudicare dall'aula vuota solo 30 deputati presenti, si potrebbe pensare ad un calo di interesse sulla vicenda BNL. Il ministro del Tesoro Carli ha impiegato circa un'ora per rispondere alle nove interpellanze e 12 interrogazioni parlamentari presentate da tutti i gruppi politici. Carli ha fornito qualche informazione tecnica in più rispetto a quanto già riferito giovedì scorso al Senato. Gli accertamenti in corso infatti hanno rivelato altre operazioni irregolari di prestito non riguardanti l'Iraq. Nulla da dire per il momento sulle imprese beneficiarie dei finanziamenti, né se questi siano stati effettivamente utilizzati per l'esportazione di armi. Dal Parlamento all'Associazione Bancaria Italiana, che oggi ha riunito il suo comitato esecutivo ed il Consiglio. Ma singolarmente i rappresentanti delle principali banche italiane non hanno nemmeno discusso informalmente sul caso BNL. Secondo il presidente dell'ABI, Barucci, è presto per esprimere giudizi. Meglio aspettare un quadro più completo fornito dall'indagine giudiziaria avviata 20 giorni fa. L'inchiesta della magistratura romana è ancora in fase di raccolta di documenti. E continuiamo con le notizie dai mercati finanziari. Perde ancora terreno la borsa italiana. I realizzi che avevano già segnato la giornata di ieri sono continuati anche oggi e l'indice MIB è arretrato di un altro mezzo punto percentuale, portandosi così a quota 1201. Tra i titoli in perdita e in prima linea le generali. Secondo gli operatori il mercato si sta alleggerendo nei notevoli acquisti di quest'estate. Giornata negativa anche per il dollaro che ha perduto quota su tutte le principali piazze valutari. In Italia la moneta americana è stata quotata a 1.404 lire e 28 centesimi, quasi 7 lire e mezzo in meno rispetto a ieri. Sui mercati c'è un clima di attesa per la riunione di sabato prossimo a Washington tra i responsabili monetari dei sette grandi dell'Occidente. Nel frattempo si rafforza il marco tedesco. In Italia oggi è stato fissato sulle 721 lire, cioè quasi qualche centesimo più di ieri. Chiudiamo con lo sport. Calcio. L'operazione Italia 90 inizia sotto i buoni auspici per la nazionale italiana che a Cesena ha superato la Bulgaria per 4 a 0 in una gara amichevole. Ha aperto le marcature Biaggio sul rigore che poi si è ripetuto con una splendida azione personale. Nella ripresa prima Carnevale, poi un'autorete di Iliev a seguito di un forte tiro di vialli hanno reso più corposo il bottino degli azzurri. Bene, per stasera è tutto. Vi lascio adesso al film di mezzanotte. Buon proseguimento e a domani.